Salve a tutti amici e bentrovati, io sono Elvira Antonucci e oggi riprendiamo il nostro viaggio alla scoperta dei sensi delle creature marine. Ieri siamo partiti dalla vista e abbiamo capito come studiare l'ambiente nel quale l'animale vive sia importante per capire quale sarà lo stimolo sensoriale che riceverà. Questo discorso vale per qualsiasi organismo ma è particolarmente importante per gli animali marini perché l'acqua modifica il comportamento della luce e di conseguenza modifica il modo in cui essi vedranno. La luce, lo abbiamo visto, ha una grandissima difficoltà a penetrare la colonna d'acqua. Già dopo i primi 100-200 metri è già praticamente scomparsa. In realtà fino ai 1000 metri siamo ancora in una zona chiamata zona del crepuscolo dove noi umani non riusciremmo a percepire niente. La luce quasi non c'è più ma quei debolissimi raggi luminosi ancora presenti vengono captati da animali con occhi specializzati. Oltre questi 1000 metri anche questi debolissimi raggi di luce scompaiono. È buio. Gli oceani sono profondi in media 11.000 metri ma ci sono dei punti del mare dove si arriva ad 11.000 metri, 11 chilometri e a paragone 100-200 ma anche 1000 metri non sono tanti. La maggior parte dell'ambiente marino si trova nella più totale oscurità. Va da sé che la vista non può essere il senso più importante per un animale del mare. Avete presente alla ricerca di Nemo, quando Nemo e Dori si addentrano nelle profondità degli abissi e trovano questo pesce bruttissimo con la lampadina davanti, gli occhi enormi e 10.000 denti? Ecco, quel pesce è un parente delle rane pescatrici, non proprio quelle che vediamo al mercato ma simile, della stessa famiglia, i Lofiformi. Quell'animale, oltre ad avere questi occhi grandissimi che abbiamo detto servire a captare anche la luce debole, nella realtà ha anche tanti filamenti che circondano tutto il corpo come se fossero tanti capelli, che servono ad avere un'idea spaziale di ciò che lo circonda. Sono dei veri e propri sensori tattili. Qualcosa di simile sulla Terra ce lo hanno i gatti. Avete presente quei baffoni lunghi sul muso? Quelle sono vibrisse e servono ad avere un'informazione spaziale di ciò che circonda il gatto. Servono, ad esempio, se devono attraversare una fessura a capire ci passo? Non ci passo? Il contatto delle vibrisse con gli ostacoli gli dà un'informazione per capire se il gatto rimarrà incastrato oppure no. La stessa cosa la fa questo pesce, solo che usa questa informazione più che altro per cacciare. A quella profondità, infatti, la disponibilità di cibo è molto scarsa, quindi meglio non spendere tante energie per rincorrere una preda. Quindi questo pesce che fa? Rimane in acqua fermo, immobile, circondato da questi filamenti sensoriali. Come farebbe un ragno al centro della sua tela. Non appena una preda passa nelle vicinanze, un piccolo pescettino, un gamberettino, e urta uno di questi filamenti sensibili, la rana pescatrice ha una precisa idea di dove si trova la preda rispetto al proprio corpo. E bam! Se la pappa. Il tatto però non è utile soltanto quando la luce non c'è, la vista è impossibilitata. È un senso usato della stragrande maggioranza delle creature marine, anche più in superficie. Tatto però non significa necessariamente contatto. Mi spiego meglio. Noi animali terrestri ci muoviamo attraversando l'aria, che è un mezzo molto poco denso. Ed infatti nella vita di tutti i giorni a Malapina ci ne accorgiamo dell'aria che si muove intorno a noi. Certo, in una giornata ventosa lo sentiamo sulla pelle il vento, ma quando pensiamo al tatto ci riferiamo a una manipolazione diretta con qualcosa, non allo spostamento d'aria. In mare non è così. Questo perché l'acqua è molto molto più densa e il suo spostamento è più facile da percepire. Se sulla terraferma un oggetto ci passa a fianco senza toccarci, non ce ne accorgiamo, a meno che non sia un treno che ci sfreccia accanto. In acqua invece sì. I pesci hanno sfruttato queste caratteristiche dell'ambiente sviluppando strutture molto sensibili agli spostamenti dell'acqua. Probabilmente vi sarà capitato di osservare un pesce e saprete che è estremamente difficile avvicinarvisi. Io d'estate ci provo sempre, mi incuriosiscono. Lo seguo, mi avvicino da dietro, acquattata, senza farmi vedere. E quello scappa. Non perché mi abbia visto, ma perché il pesce ha percepito lo spostamento dell'acqua causato dal mio corpo. Ovviamente i pesci sono in grado anche di percepire il contatto diretto come noi umani, non soltanto lo spostamento dell'acqua. E in particolare le pinne pettorali si rivelano essere particolarmente sensibili al tocco. Anche se devo ammettere che quest'area di ricerca, sorprendentemente, sembra essere abbastanza povera di informazioni ancora. Vengono chiamate linee laterali e dall'esterno appaiono proprio come linee che corrono lungo i fianchi del pesce, dalle branchie fino alla base della coda. In alcuni è proprio possibile vederle come scanalature lungo le scaglie. La linea laterale non è altro che un canale che si trova al di sotto delle scaglie che comunica con l'esterno attraverso dei piccoli pori, che sono poi quelli che vediamo a occhio nudo. All'interno di questo canale troviamo dei recettori tattili, delle cellule quindi sensibili ai movimenti dell'acqua, racchiuse a loro volta da delle piccole cupolette. L'acqua di mare attraversa i pori ed entra in questo canale, spostando e deformando queste piccole cupole e i recettori al loro interno, che invieranno poi l'informazione al cervello. In molti casi questi recettori non sono soltanto presenti lungo la linea laterale, ma sparsi come recettori isolati lungo tutto il corpo del pesce, soprattutto sul muso. Come potete immaginare, questi recettori sono particolarmente abbondanti in tutte quelle specie che vivono in ambienti di scarsa luminosità, come le caverne, o dove l'acqua è torbida. Ma la linea laterale non è importante soltanto per evitare i predatori, ma anche per cacciare, per sentire il moto delle correnti, ed anche, ancora più interessante, per nuotare in banco. Come sapete, molti pesci, specie quelli più piccoli, per sfuggire ai predatori adottano la strategia di nuotare in grandi gruppi omogenei. La linea laterale consente ai pesci di nuotare vicinissimi, compatti, consente di percepire i movimenti dei compagni e di cambiare direzione velocemente senza scontrarsi fra loro. Permette al banco di muoversi come un corpo unico. In un esperimento degli anni 70, a dire il vero un po' crudele, si è provato a capire se fosse la vista o il tatto il senso più importante alla formazione dei banchi di pesce. Hanno allontanato un gruppo di individui dal banco principale. Metà di questi sono stati accecati, ve l'avevo detto che era un po' crudele, e all'altra metà invece è stata lesionata la linea laterale. Hanno visto che i pesci ciechi riuscivano tranquillamente a ricongiungersi al banco, gli altri invece no. La linea laterale è stata provata essenziale. Ma mettendo da parte gli esperimenti truci, perché i pesci nuotano in banco? Uno dei motivi, non l'unico ma uno di questi motivi, è proprio ingannare la percezione del predatore. La linea laterale, lo abbiamo detto, percepisce lo spostamento dell'acqua, ma per un predatore è difficile individuare il singolo movimento. E quindi non sa se si trova vicino a un pesce molto molto grande o a un gruppo di pesci piccoli che nuota compatto. E durante la caccia questo movimento è distraente, è difficile individuare la singola preda che nuota. Come vi ho detto ieri e come ripeterò per tutta la lunghezza del festival. È impossibile comprendere la percezione di un animale se non si studia per prima cosa l'ambiente in cui vive. Abbiamo esplorato questo concetto ieri con la vista e oggi abbiamo scoperto che il senso del tatto è fortemente legato alla densità dell'acqua. E vi ho parlato soltanto dei pesci, ma analoghi della linea laterale si trovano anche in altri animali, come ad esempio nei calamari. Un altro esempio eccellente di come la percezione dipenda molto dalle caratteristiche dell'ambiente è l'olfatto. Ma di questo ne parliamo domani alla stessa ora, sempre qui, per il Science Web Festival. Io vi aspetto, eh! Ciao!